Sospesa per sette giorni la licenza del gestore di un bar di Gela dove si incontravano abitualmente dei pregiudicati, come prevede il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il questore Ricifari ha così sospeso temporaneamente la licenza dell'esercizio, che già in passato era stato oggetto di provvedimenti simili. La Polizia di Stato ha da tempo intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro storico gelese. La decisione arriva dopo gli interventi delle pattuglie della Polizia di Stato che durante più controlli hanno identificato all'interno dell'esercizio commerciale persone pregiudicate. Le volanti del commissariato di pubblica sicurezza insieme a pattuglie delle parti di prevenzione crimine hanno svolto servizi per contrastare l'illegalità diffusa in quei luoghi della Movida dove già in passato sono avvenuti delitti.